Sono Natoni Claudio, insieme a mia figlia Natoni Claudio, proprietario dell'azienda Natoni Claudia che prende il nome di Pepperdop perché adoperiamo noi nel nostro territorio che è Ponte Corvo vicino a provincia di Frosinone, adoperiamo il peperone DOP, l'unico peperone in Italia che ha la DOP e noi tra due anni siamo anche biologici. Noi in realtà abbiamo pensato di trasformare il peperone fresco perché abbiamo dei vingoli da agosto fino a ottobre riusciamo a averlo fresco, però il nostro disciplinare è molto rigido e ci pieta coltivarlo in serra come quello che diciamo adesso nei fruttimenti si arriva quello della Sicilia o della Tunisia, della Turchia, noi li abbiamo trasformati e come lei può vedere che abbiamo fatto il tarallo con la polvere del peperone, la polvere del peperone in se stesso, l'agrodolce, abbiamo poi una crema sia verde che rossa e poi qui abbiamo la pasta fatta con la polvere del peperone insieme al liquore che è un digestivo al peperone, quindi questo per averlo tutto l'anno, altrimenti il prodotto alla fine di ottobre, massimo metà novembre, terminava, quindi non l'avamo potuto fare più niente.